E' stata fatta finalmente piena luce sul duplice omicidio di Camorra avvenuto il 19 giugno del 2007 a Pozzuoli. I carabinieri hanno identificato chi organizzò la spedizione di morte, i mandanti ed esecutori materiali dell'uccisione di Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore, all'epoca dei fatti, capi dei clan Sebastiano Bellofiore. Secondo gli investigatori, ad emettere quella condanna a morte e ad eseguirla con altre persone nel frattempo decedute furono i vertici dei gruppi camorristici Longobardi, Beneduce e Del Bivio, entrambi attivi per il controllo di tutto il racket e spaccio di droga nell'area flegrea. Si tratta di quattro persone attualmente detenute per altri reati di tipo associativo, due delle quali hanno ricoperto il ruolo di organizzatori e mandanti, altri due quello di esecutori materiali. Il duplice omicidio fu deciso voluto per eliminare gli avversari concorrenti e acquisire così il monopolio dei traffici illeciti nell'area flegrea. Del gruppo di fuoco fecero parte almeno quattro persone. Arrivarono a bordo di un furgone rubato davanti ad un bar della zona. Scesero dal mezzo, armati di fucili a canne mozze e spararono numerose volte alle vittime. I due, per cercare scampo, si diedero alla fuga. Tentarono di nascondersi in un parco e tra le colonne di un porticato, tutto inutile. Vennero freddati sotto la pioggia di fuoco. Il provvedimento, emesso dal GIP di Napoli su richiesta della DDA, si basa anche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno militato in entrambi i sodalizi, passando dai Sebastiano Bellofiore ai Longobardi Beneduce, in ossequio alla logica del transito imposto ai vinti.